Diritti sociali e tutela del lavoro, denuncia delle disuguaglianze, difesa ambientale sono alcuni dei temi alla base del neocostituito premio Dov'è Tina Merlin oggi, che verrà consegnato a due tra le croniste e i cronisti che nel corso del 2023 avranno raccontato in maniera originale e approfondita situazioni di disagio rispetto ai temi fondanti del premio. Questo riconoscimento nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, targato FNSI ed è una prima assoluta, è dedicato alla storica giornalista nata a Tricchiana, nota per gli eventi legati alla vicenda del Vaionte che ha perseguito senza esitazione la propria indagine in onore del vero e del giusto, una figura in cui si riflettono i valori più puri della professione giornalistica e che sono diretta manifestazione dei diritti sanciti dall'articolo 21 della Costituzione. Ci siamo ispirati alla figura di Tina Merlin per quello che ha fatto e perché riteniamo che sia assolutamente centrale e attuale nelle nostre vicende odierne. Un premio che non vuole essere solo un riconoscimento ma un'occasione di dibattito e confronto sul tema dell'inchiesta, come roccaforte dei valori di una professione sempre più sulcata dal precariato e trattamenti economici sconvenienti. Il più grande bavaglio che conosce oggi la stampa italiana è quello del lavoro precario. Il lavoro precario è l'antitesi del giornalismo, non perché noi si debba avere il posto fisso, ma perché non avere la preoccupazione economica di arrivare a fine mese rende molto più liberi. Dopodiché c'è un altro fattore molto attuale. Noi oggi parliamo di intelligenza artificiale e l'unico modo che conosciamo per evitare che l'intelligenza artificiale dilaghi nel giornalismo è fare giornalismo d'inchiesta. A sposare l'iniziativa la Fondazione Vaiont, l'Associazione Culturale Tina Merlin, la provincia di Belluno e i comuni di Borgoval Belluna e Longarone, che ospiterà la prima edizione del premio per il 2023 come coronamento degli eventi legati alla ricorrenza del sessantesimo della tragedia del Vaiont. È un'occasione proprio per riflettere attorno alla figura del giornalista d'inchiesta come è stata Tina e un esempio penso per tutto questo settore in maniera molto importante.